Signori ben ritrovati nel canale di Simodefa Durante il corso di questo video andrò a fare il tutorial completo definitivo a Binance del 2024 Binance è l'exchange cripto più famoso e conosciuto al mondo Da anni mantiene la classifica del primo exchange di criptovalute Recentemente ci sono stati dei problemi quindi delle indagini per esempio a CZ che è il proprietario dell'exchange Ma negli anni Binance si è dimostrato uno dei più affidabili e principali exchange cripto Ad oggi continua a mantenere questa sua posizione di predominio Quindi siccome siamo a gennaio e le cose sono cambiate all'interno di Binance Ho deciso di realizzare il tutorial definitivo 2024 Ho analizzato sezione per sezione quindi vi ho sottotitolato il video In modo tale che voi possiate andare direttamente nella sezione che vi interessa nel caso lo necessitiate Spero con questo video di far capire a tutti i neofiti o quelle persone che avevano ancora dei dubbi Sul come utilizzare Binance come poterlo sfruttare a pieno Piccola premessa per quanto riguarda i miei exchange principali Nel 2024 continuo ad utilizzare Binance e utilizzo affiancato a Binance Bybit Questo perché all'interno di Binance non sono presenti determinate funzionalità Determinate sezioni che sono però presenti all'interno di Bybit Come il copy trading, il trading sui derivati o la carta che ci permette di spendere criptovalute Binance sicuramente funziona bene e ci offre la maggior parte dei servizi che noi possiamo andare a sfruttare utilizzando un exchange crypto Ci sono però delle altre funzioni che non possiamo sfruttare all'interno di Binance Di conseguenza per sfruttarle dovremo utilizzare un'altra piattaforma Quindi la piattaforma alternativa che utilizzo a Binance è Bybit Diciamo che con Binance e Bybit io riesco a regolare tutto quello che è il mio trading, l'investimento in criptovalute Se non siete ancora registrati a Binance e volete provarlo trovate il link qui sotto nella descrizione del video Che vi darà dei welcome bonus e degli sconti sulle fee Quindi andrete a ridurre le commissioni di trading che voi andrete a pagare utilizzando la piattaforma Ho parlato anche troppo quindi passo a computer e vi spiego in maniera definitiva come funziona l'exchange Binance Prima cosa da fare ragazzi mettere il tema scuro su Binance Perché Binance vedete in nero è molto più bello rispetto a Binance in bianco Quindi prima cosa da fare prima di iniziare il tutorial è mettere il tema scuro Direi di partire dalla prima cosa quindi dal compra cripto Se noi ci registriamo in una piattaforma dobbiamo chiaramente comprare criptovalute Per quanto riguarda l'acquisto di criptovalute le metodologie di acquisto cambiano nel tempo Però attualmente noi abbiamo la possibilità di comprare cripto sia tramite carta sia tramite un bonifico Quindi per esempio da qua noi selezioniamo la quantità quindi quanti euro vogliamo andare a spendere Io vi consiglio di comprare sempre USDT E da qua selezioniamo il metodo di pagamento Vedete che avete la possibilità di effettuare un bank transfer Quindi se andate su bank transfer e date la conferma Quindi questo è il primo metodo per ricaricare tramite un bonifico bancario Quindi andate sulla conferma e vi sarà dato un IBAN Vedete questo è l'IBAN del destinatario Ovvero l'IBAN alla quale voi dovrete inviare i vostri fondi Quindi se selezionate per esempio appunto un acquisto di 1000 euro dovrete andare ad inviare 1000 euro a questo IBAN Ok? E deve essere importante ragazzi che nel bonifico andate ad inserire questo numero di riferimento Quindi nella causale tendenzialmente quando inserite un bonifico inserite anche una causale Dovete inserire questo numero qua Che chiaramente è diverso da persona a persona Quindi io ho questo codice diciamo Voi ne avrete uno diverso Chiaramente il bonifico deve essere dalla stessa persona che ha il conto Binance Quindi in questo caso questo è il mio conto personale Binance Non posso far partire il bonifico dal conto di per esempio mio fratello o mio papà Ok? Se ricarico la piattaforma devo utilizzare lo stesso nome che ho utilizzato in fase di verifica dell'identità Questo ragazzi è fondamentale perché se no vi storrono il bonifico Se andate ad effettuare un acquisto tramite bonifico tendenzialmente i fondi arrivano in uno o due giorni lavorativi Io ragazzi ho provato recentemente e mi sono arrivati il giorno dopo Quindi se andate ad effettuare un bonifico oggi domani vi arriveranno i fondi all'interno di Binance Questo è il metodo più semplice che io di norma consiglio perché ha meno commissioni Quindi l'acquisto tramite bonifico bancario Abbiamo poi anche la possibilità di acquistare criptovalute tramite una carta Quindi per esempio appunto di nuovo seleziono i miei 1000 euro Seleziono il metodo di pagamento Vedete che qua c'è card Quindi da card noi potremo andare ad inserire Io adesso non ricarico tramite carta da un po' Quindi vedete la mia carta è scaduta Però praticamente noi potremo andare a inserire qua i dati della nostra carta E una volta che avremo inserito i dati andremo ad effettuare la ricarica direttamente con la carta Potrete andare a ricaricare l'exchange anche tramite Google Pay Però con una carta Visa collegata E anche tramite Apple Pay Però al momento vedete è bloccato Come detto variano sempre questi metodi di ricarica In linea di massima il metodo che rimane sempre standard e sicuro Che io consiglio è il bonifico Poi ce la ricarica via carta o tramite Google Pay o Apple Pay Siete liberi di ricaricare insomma come volete Sapete che le cripto le comprate da questo pulsante Compra cripto Non potete sbagliarvi Quindi così è come noi compriamo cripto Se invece noi volessimo andare a depositare i criptovalute da un'altra piattaforma Dovremmo andare su questo pulsante quindi sul pulsante deposita A questo punto vedete che avete la voce deposita cripto Quindi se io ho dei bitcoin su Bybit e li voglio portare su Binance Devo andare a cliccare qua sopra E devo andarmi a tirare fuori quello che è l'indirizzo Binance ricevente Quindi ripeto se io voglio far arrivare dei bitcoin all'interno di Binance Seleziono bitcoin e mi generano il suo indirizzo ricevente Ok così con qualsiasi altra cripto Quindi voglio ricevere degli USDT perché magari ho questi USDT su Bybit Ripeto Da qua posso generare quello che è l'addresses di riferimento Quindi nell'invio di criptovalute dall'altra piattaforma o da qualsiasi tipologia di wallet Dovrete andare ad inserire questo indirizzo per far partire il trasferimento Importante chiaramente che se inviate USDT l'indirizzo ricevente sia un indirizzo ricevente in USDT Non potete inviare USDT ad un indirizzo bitcoin Questo mi sembra chiaro insomma l'ho già ripetuto diverse volte all'interno del mio canale Una volta che noi abbiamo il saldo quindi appunto ce lo siamo o comprati con la nostra carta o con il nostro bonifico O l'abbiamo trasferito da un'altra piattaforma Abbiamo la possibilità di comprare criptovalute Le criptovalute vengono conservate all'interno del wallet spot Che lo potete andare a trovare qua sotto panoramica del portafoglio spot Questo è il wallet senza leva finanziaria Quindi significa che quando voi comprate euro per esempio o USDT e li portate su Binance Vi ritroverete all'interno del wallet spot Prima di vedere come funziona il wallet spot vi faccio vedere questa cosa Che è un pulsante che penso tutti debbano conoscere Ovvero il pulsante converti Quindi da questo pulsante, da questa schermata, trading converti Abbiamo la possibilità di convertire una criptovaluta in un'altra Direttamente da qua Quindi in questo caso per esempio non lo so Facciamo un esempio io ho degli ordinals Ok? Ho 100 ordinals Se io volessi andare a convertire questi ordinals Per esempio non lo so la metà 50 ordinals In facciamo un esempio Bitcoin Posso andare a selezionare qua E automaticamente vedete che ho un'anteprima della conversione Mi fa vedere a quanto andrò ad effettuare questo cambio E cliccando l'ok mi effettuerà la conversione Questo è un ordine a mercato Quindi questo pulsante che è il pulsante converti Converti e scambi in blocco Funziona sia con gli ordini vedete a mercato Sia con gli ordini limite Quindi nel caso voi voleste andare per esempio appunto a convertire Non lo so questi ordinals Appunto voglio convertire 50 ordinals In Bitcoin Però a che prezzo di conversione? Lo voglio cambiare quando il prezzo è più alto Ok? Quindi per esempio quando il prezzo raggiunge questo valore qua Qua andrò a selezionare la quantità Quindi potete impostare anche un tick profit direttamente dalla schermata converti Se avete delle criptovalute ecco vi consiglio di scambiarle qua Quindi avete per esempio appunto quando ricaricate l'exchange degli USDT Da qua potete selezionare l'USDT In questo caso vedete che ho un saldo di 16 Quindi metto 16 dollari Volete comprare il BNB? Bene selezionate da qua BNB Andate su anteprima della conversione E riuscirete subito ad effettuare la conversione Senza andare nella schermata di trading Quindi come acquistare effettivamente criptovalute O comunque come convertire euro in criptovalute Lo riuscirete a fare direttamente da questo pulsante Trading, converti e scambio in blocco E penso sia il metodo più facile Per effettivamente andare a convertire criptovalute Una criptovaluta in un'altra Detto ciò abbiamo poi il nostro wallet spot Quindi quando noi acquistiamo le nostre criptovalute Ce le andiamo a ritrovare sul nostro wallet spot Panoramica del portafoglio Si intende tutto il nostro portafoglio Quindi se noi clicchiamo su panoramica del portafoglio Ci farà vedere il nostro saldo stimato Che io al momento vi copro per il privacy Che abbiamo in tutti i nostri vari wallet Quindi nel wallet spot, nel wallet margin E nel wallet futures Come detto il wallet spot è un wallet senza leva finanziaria Il wallet margin con la leva finanziaria Il wallet erna invece è il wallet dello staking Dove noi andiamo a mettere a rendita le nostre cripto In Italia attualmente il wallet futures è bloccato Quindi non lo andrò a citare all'interno di questo video Il wallet spot Quindi se noi abbiamo le criptovalute in spot Ci clicchiamo sopra e troviamo il nostro holding Quindi tutte le criptovalute che noi abbiamo all'interno del wallet spot Da qua noi possiamo convertire Per esempio appunto vedete da questo lo stesso pulsante di prima Possiamo convertire una criptovaluta in un'altra Quindi da qua per esempio gli ordini Voglio convertire in un'altra Clicco sul pulsante converti E riuscirò come prima effettivamente a convertire questa criptovaluta in un'altra O posso andare a fare trading Ok Per andare a fare trading si intende effettivamente andare ad aprire quella che è la schermata di trading Che fra poco vi andrò a far vedere Cos'altro possiamo andare a vedere? Possiamo andare ad effettuare un deposito Quindi come vi ho fatto vedere prima per depositare cripto Possiamo farlo sia da qua che è più comodo Ragazzi Binance ce lo mette in primo piano Oppure direttamente da questa schermata abbiamo il pulsante deposito Oppure possiamo andare a prelevare criptovalute Quindi io ho questi algorand Se voglio portarli fuori da Binance Da un'altra piattaforma Dovrò andare a cliccare sul pulsante preleva Ok O portarmi su questa criptovaluta Mettermi su questi tre puntini sulla destra E andare sul pulsante prelievo Cliccando sul pulsante prelievo Ve lo faccio vedere giusto perché così è chiaro a tutti Qua andremo ad inserire quello che è l'indirizzo destinatario In questo caso algorand Perché appunto se invio algorand Devo avere un indirizzo destinatario algorand Se invio bitcoin Devo avere un indirizzo destinatario bitcoin Qua inserirò l'indirizzo La rete di prelievo E do l'ok per effettuare appunto il trasferimento Quindi il wallet spot ragazzi è questo Quando noi abbiamo le criptovalute all'interno del wallet spot Fondamentalmente Quindi appunto torniamo nel nostro wallet spot Abbiamo per esempio Non lo so Dei dollari E con questi dollari vogliamo comprare una cripto Dobbiamo andare su questo pulsante Quindi sul pulsante Fai Trading Andando sul pulsante Fai Trading Si aprirà quella che è la vera e propria schermata di trading Questa è diciamo una schermata che è presente e comune in quasi tutti gli exchange Quindi qua a sinistra abbiamo la coppia di riferimenti In questo caso vedete bitcoin usd Nel caso io volessi andare a fare trading su un'altra cripto Quindi in questo caso vedete sono su bitcoin Dovrei andare qua a cercare la cripto Ok da qua la riesco a cercare Il wallet spot è un wallet senza leva finanziare Quindi da qua cos'è che potete andare a vedere Potete andare a vedere il grafico della cripto in questione In questo caso chiaramente di bitcoin Se io mi spostassi su per esempio ave Mi andrà a far vedere il grafico di ave Ok vedete Ritorniamo sul nostro bitcoin Ok quindi da qua vedete Io voglio tornare su bitcoin Ricerco bitcoin Ah vedete che qua sulla destra avete un 10 per Vi ho accennato prima al discorso del margin trading Quindi le criptovalute che qua sulla destra hanno questo 10 per o 5 per Significa che sono scambiabili con una leva finanziaria Fino a 10 per o 5 per Tramite appunto il margin trading Il margin trading è un wallet spot che però utilizza la leva finanziaria Fra poco finisco di fare il discorso per quanto riguarda il wallet spot Vi lascio a un approfondimento sul wallet margin Perché penso sia molto molto interessante Comunque linea di massima ragazzi da qua noi abbiamo appunto il nostro wallet spot Quindi quando abbiamo i dollari ragazzi siamo sulla sezione degli USDT Chiaramente per comprare bitcoin in questo caso dobbiamo avere a disposizione cosa? Dei dollari Quindi questa è una sezione che ci serve per tridare con i dollari Da qua sotto possiamo andare a selezionare l'ordine Quindi vogliamo andare a comprare per esempio appunto in questo caso sono su bitcoin Quindi sto scambiando i miei dollari per bitcoin Voglio andare a comprare quanti bitcoin Per esempio il massimo Voglio andare a comprare 16 dollari di bitcoin Qua vado a selezionare la quantità Sono in ordine a mercato E posso acquistare questi bitcoin Una volta che io li ho acquistati li andrò a conservare chiaramente nel wallet spot Perché sono nel wallet spot E per venderli Quindi una volta che mi ritroverò il saldo In questo caso vedete io ho 0 bitcoin Ma per esempio prima vi ho fatto vedere io avevo del saldo in ordine Quindi avevo circa questi 100 ordi Quindi andiamo su ordi Io questi ordi come vedete li ho Tantantantà a disposizione Ok quindi vedete disponibile per la vendita ho 100 ordine Nel caso io volessi convertire questi ordine in dollari Ok ho realizzato un profitto e voglio riconvertire la crypto che ho comprato in dollari Dal pulsante vendi Vedete vendi Io posso selezionare la quantità e riportarla in dollari Quindi questo è il wallet spot Possiamo andare a effettuare sia gli ordini a mercato sia gli ordini limite Gli ordini limite chiaramente in questo caso per esempio appunto io ho gli ordinance Però non voglio venderli a livello attuale quindi a 72 dollari Ma voglio venderli se raggiungono i 100 dollari Ok quindi inserisco qua il sell limit al valore di 100 dollari Ok di che cosa? La massima quantità dei miei ordini Mi va a far vedere quanto andrei a guadagnare Quindi 10.000 dollari Se effettivamente vado ad effettuare questo sell E se per esempio io vado sul pulsante vendi ora Ve lo faccio vedere giusto per prova Vedete mi va ad inserire un ordine di vendita Dei miei ordini al valore di 100 Quindi se gli ordini in questo caso Vedete sono a 72 Arrivassero a 100 dollari Automaticamente Binance mi andrebbe a fare la conversione Da ordini a USDT Quindi in pratica questa sezione ragazzi È la stessa sezione che potete andare a trovare dal pulsante converti alla fine Quindi se vi abituate a tradare qua è meglio perché avete più indicazioni Avete un grafico Diciamo la schermata di trading migliore da utilizzare Per effettuare le conversioni più velocemente dovete andare sul pulsante trading converti È lo stesso identico procedimento Quindi da qua noi impostiamo gli ordini sul wallet spot Io adesso non voglio impostare questo ordine di vendita Quindi se voglio cancellare l'ordine Vedete ho cliccato sul pulsante cancella E l'ordine è stato annullato Quindi ripeto da qua abbiamo dei dollari a disposizione Scegliamo la criptovaluta In questo caso ordina possiamo avere qualsiasi cripto Quando ci siamo sopra la andiamo ad acquistare Possiamo acquistarla o a livello attuale o tramite un limite Quindi un livello di prezzo più basso E una volta che ce l'abbiamo La andiamo a conservare nel wallet spot Che lo possiamo andare a vedere anche da qua Quindi per non amico il portafoglio spot E per riconvertire la nostra cripto in euro Dobbiamo appunto andare su questo pulsante Quindi sul pulsante vendi E non sul pulsante buy Ok Qua abbiamo dei dollari Compriamo gli ordinals Ce li ritroviamo qua sul disponibile Se vogliamo venderli Selezioniamo la quantità E li vendiamo Anche qua possiamo vendere Sia con un ordine a mercato Sia con un ordine limite Così è come funziona il wallet spot All'interno di Binance Per quanto riguarda il wallet margin Che è il wallet che utilizza leva finanziaria Vi lascio a una breve spiegazione Che avevo realizzato in un video Che è uscito poco fa Nel mio canale youtube Noi ci ritroviamo fra poco Con la continuazione di questo video Parlerò del wallet earn E poi concluderemo il video In pratica la sezione margin Non è altro che la sezione spot Ma con una leva finanziaria Facciamo un esempio Se un bitcoin è scambiato 10.000 dollari E noi andiamo a mettere all'interno Del wallet spot 10.000 dollari Andiamo chiaramente Ad acquistare un bitcoin Se questo bitcoin Poi passa da 10.000 dollari A 13.000 dollari Andrò a realizzare Un profitto di 3.000 dollari Appunto perché il prezzo Di un bitcoin È passato da 10.000 A 13.000 Tramite la leva finanziaria E tramite la sezione margin Potremo andare a moltiplicare Tra virgolette Il nostro investimento Quindi noi sempre Depositiamo 10.000 All'interno della sezione Ma andiamo a comprare Un controvalore di 30.000 O 50.000 dollari In bitcoin Facciamo l'esempio Con una leva 3 Quindi con un controvalore Di 30.000 dollari A questo punto Se il prezzo di bitcoin Mi passa da 10.000 A 13.000 Io non sto facendo un guadagno Su un solo bitcoin Ma su 3 bitcoin Perché appunto Ho utilizzato la leva finanziaria Quindi il mio guadagno In questo caso Sarebbe amplificato Dai 3.000 dollari Senza leva finanziaria Ai 9.000 Con la leva finanziaria Per effettuare questo procedimento Noi siamo andati a richiedere Un prestito all'exchange Quindi un prestito In questo caso Nell'esempio che vi ho fatto vedere Di 20.000 dollari Che chiaramente Dovremo andare a restituire Di conseguenza Per fare ciò Pagheremo delle fee E pagheremo delle fee Ogni ora Che andremo a mantenere Aperta la nostra operazione All'interno del margin trading Quindi il procedimento Di norma è questo Richiedete a prestito Del denaro Che poi andrete a restituire Chiaramente Il problema Dove sussiste Sussiste se Noi compriamo bitcoin Ma bitcoin scende di prezzo E quindi Questa discesa di prezzo Fa sì che il nostro Margine iniziale Va di diminuire Quindi c'è la possibilità Di bruciare il nostro Conto di trading A meno che noi Non andremo ad integrare Con altri soldi È una sezione quindi Da utilizzare Con le dovute precauzioni Perché appunto Si utilizza la leva finanziaria E c'è la possibilità Di perdere Tutto il proprio capitale Eccomi qua All'interno di Binance La sezione trading margin La trovate sotto la voce Appunto trading margin Quindi avete La sezione spot Che permette di operare Senza leva finanziaria E la sezione margin Che ci permette Come vedete scritto qua Di implementare i profitti Con la leva finanziaria Prima di vedere ciò Andiamo a vedere Quelle che sono le fee Quindi vi ho detto Che per quanto riguarda La sezione dei margin Noi abbiamo delle fee Quindi per quanto riguarda Le fee Queste sono le fee spot Ok Quindi fondamentalmente Nella sezione margin Stiamo andando a Tradare Nel wallet spot Ma con la leva finanziaria Quindi per quanto riguarda Gli ordini a mercato Avete lo 0,075% Di fee sull'ordine E sugli ordini Limite sempre Lo 0,075% Perché non cambia Nella sezione spot Queste fee Quindi questo 0,085% Barra 0,075% Lo si paga Sia in entrata Sia in uscita Dal trade Quindi vuol dire Che se noi apriamo Un trade Da 10.000 dollari Questo 0,075% È preso come fee Appunto Quando noi Apriamo il trade E quando noi Chiudiamo il trade Le fee originali Sarebbero di 0,10% Quindi circa Un 1 su 1000% Ma andando a Introdurre Quello che è il discount Quindi pagando le fee In BNB Io vi consiglio Di spuntare Questa casella Nel vostro conto Binance Riuscirete a ridurre Le fee Del 25% Inoltre Se utilizzerete Il mio link Invito Averete un altro 10% di sconto Su qualsiasi fee Quindi questa è la fee Che si paga Nell'ordine Diciamo Quando noi andiamo A richiedere un ordine Dopodiché Si vanno a pagare Come vi dicevo prima Degli interest rate Quindi vuol dire Che ogni ora Vedete Si va a pagare In base all'asset Che andiamo a prendere Come margine Quindi se noi facciamo Un'operazione Per esempio In bitcoin Ok Pagate ogni ora Vedete Un determinato Interest Che è Questo interest È dello 0,000151% Del vostro ordine Se lasciate aperta L'operazione Tutto l'anno Trovate L'interest annuale Quindi 1,33% Quindi sapete Che ogni giorno Se le vostre fee Vengono aumentate Perché appunto Pagate un interesse Orario Per mantenere Aperto Il prestito Chiaramente Questo interesse Quindi questa fee Che voi andrete a pagare Dipende da coin a coin Quindi per esempio Algorand Volete prendere Degli Algorand Da prestito Vedete Avete una fee Più alta Rispetto a bitcoin Questi conti Chiaramente Dovete andargli A fare a priori Quindi l'esempio teorico Che abbiamo visto prima Dei 10.000 E 30.000 Dollari Non andava Ad includere Queste fee E non andava Ad includere Le fee Di apertura Ecco Dovete tenerli In considerazione Ragazzi Perché fanno parte Del gioco E non si possono Tralasciare Quelle che sono Le fee Detto ciò Appunto La sezione dei derivati La troviamo Su trading margin Quindi andiamo All'interno Di questa sezione Allora Quindi Com'è che funziona Questa sezione È una sezione Fondamentalmente Spot Vedete Quindi noi abbiamo qua Quello che è il wallet spot E qua quello che è La sezione cross margin La sezione cross margin Ok Che è la sezione Che a noi interessa Dove c'è la leva finanziaria Ha una leva finanziaria Che dipende Da asset A asset Quindi Qua trovate le coppie Scambiate per USDT Quello che io vi consiglio Sempre è di Utilizzare del collaterale Fisso Stabile Non utilizzare un collaterale In un'altra cripto Quindi vi scegliete Da questo elenco La vostra cripto Quindi per esempio Bitcoin Ok Vedete Bitcoin Ha una leva Sugli USDT Fino a 10x Quindi nella sezione margin Abbiamo o un 5x O un 10x Dipende dalla coppia Che andiamo a scegliere La prima cosa Chiaramente da fare Quindi è Trasferire il collaterale Quindi in questo caso Abbiamo dei bitcoin Scambiati con USDT All'interno di questa sezione Come si fa Per trasferire margin All'interno di questa sezione Vedete che qua Avete il pulsante Trasferisci Quindi voi vi trasferite Per esempio Gli USDT Non lo so Per esempio Vedete io ce li ho Sul conto Fiat e spot Me li trasferisco Sul margine Quindi seleziono La quantità 89 dollari Mi porto 80 dollari E vado ad effettuare Una conferma Quando io Avrò a disposizione Questi dollari Ok vedete Fondamentalmente Mi permettono Con una leva 5x Di avere disponibili Molti più dollari Rispetto a quelli Che io ho A disposizione Sul cross margin Ok Quando voi avete Una leva 5x Significa che Appunto Questo margine Disponibile È in realtà Diviso per 5 Quindi io Con solo 110 dollari In questo caso Posso aprire Un controvalore Vedete Di 589 dollari Di operazione Per quanto riguarda La leva finanziaria Quindi vedete qua Abbiamo un 5x Ma assumendo Di voler cambiare Quella che è la leva Finanziaria Cosa significa Avere una leva 5x Che noi possiamo andare A tridare Fino a 5x Possiamo cambiare La leva da questo pulsante Da 5x A 3x Quindi se per esempio Clicco 3x Ecco qua Che sul pulsante Presta Mi si va a ridurre Quello che è il margine Disponibile Per la mia operazione Sotto le informazioni Trovate Modalità di prestito Il sistema prenderà Automaticamente In prestito I fondi Per eseguire L'ordine Gli ordini Inseriti con successo Matureranno Immediatamente Gli interessi In caso di Allunamento totale Dell'ordine Il titolare Del conto Verrà automaticamente Rimborsato Allora Siccome io non voglio Fare un esempio Con grosse quantità Facciamo un esempio Per esempio Con 30 USDT Seleziono 30 USDT E vado ad effettuare Un buy A mercato Appunto All'interno Di questa sezione Quindi sono andato Ad effettuare Il mio buy Ecco qua Sono andato a comprare La quantità Di 0,008083 Bitcoin Per un controvalore Vedete Di 29 dollari E mi da La voce Eseguito Quindi Al momento Io ho Il mio portafoglio Questi Bitcoins Infatti io vado Sul wallet Ok Ritorno all'interno Di Binance E vado sul wallet E vado su Chiaramente Il wallet margin Che è questo Quando voi andate Ad aprire un trade Quindi per esempio Ragazzi Io in questo caso Ho aperto un trade Su bitcoin Vedete Abbiamo una Sottospecie di equity Ok Questa equity Rappresenta Il valore In bitcoin Che noi abbiamo acquistato Senza la leva finanziaria Mentre questo Ragazzi È il debito Quindi io sono andato A prendermi Per esempio In questo caso 217,10 euro Di debito I profitti E le perdite Li potete andare A vedere qua Quindi Il pnl Quindi quanto profitto Siete andati a realizzare Per esempio Su questa operazione Chiaramente in dollari O in bitcoin Potete selezionare Come vedere Il guadagno La perdita Lo vedete qua Quindi quando avete Un'operazione aperta Trovate il vostro debito Il vostro equity L'equity chiaramente Comprende i dollari Fermi E i dollari liberi E il profitto E perdita Realizzato con Quella determinata operazione In questo caso Sono in negativo Perché appunto Vi ho spiegato prima Quando noi andiamo Ad aprire un'operazione Tendenzialmente Paghiamo delle fee Cosa importantissima Avete un margin level Quindi Come detto all'inizio Di questo video Il margin trading È una sezione Pericolosa Perché? Perché se chiaramente Noi compriamo un prestito Di bitcoin Ma il nostro margine Quindi la nostra equity Va a zero Ok? Quindi dobbiamo essere attenti Qua che non va di mai a zero Perdiamo fondamentalmente Tutto il nostro capitale Spostato all'interno Della sezione margin Quindi se questo Margin level Ok? In questo caso Vedete che è un rischio Moderato Ma se questo margin level Va nella sezione rossa Voi dovete stare attenti Perché c'è il rischio Che appunto La vostra equity Non riesca più A bilanciare L'eventuale perdita Di conseguenza Dovrete andare ad Integrare capitale All'interno di questa sezione Per mantenere Aperto Il prestito Quindi se volete chiuderlo Ok? Quindi avete un prestito aperto Volete chiuderlo Dovete andare sul pulsante Borrow Barra Repay Il pulsante Borrow Serve per chiaramente Riprendere a prestito Il pulsante Repay Per ripagare Eventuali prestiti Quindi in questo caso Io ho il 100% Di bitcoin Che li abbiamo comprati Prima ragazzi Se voglio andare A richiudere il prestito Devo andare sul pulsante Confirm Repayment Chiaramente andrò a perderci Perché vedete qua Io sono andato a pagare Delle fee E automaticamente Quando io andrò A chiudere il prestito Questo balance Mi sarà risaldato Nella criptovaluta In questo caso Bitcoin Che sono andato A prendere a prestito Come vedete Che non avete più debito Chiaramente perché Appunto si è aggiornata Quella che è La schermata Del total debt E quella del margin level In percentuale Quindi per chiudere il discorso Ragazzi Il trading Ve lo trovate nella sezione margin È fondamentalmente Un wallet spot Ma che utilizza leva Di conseguenza Il vostro margin A disposizione salirà E diminuirà Da questa sezione Voi potete andare A prendere a prestito Quindi chiaramente Dal pulsante borro Potete andare a prendere a prestito O inserire un ordine limite O inserire un ordine a mercato Insomma potete fare Quello che volete Per ripagare il prestito Io vi consiglio di andare Sotto la voce Wallet E ve l'ho fatto vedere prima Wallet Wallet margin Chiaramente Chiaramente potete andare Potete andare a cambiare Leva finanziaria Fino a un 5 per Se non sbaglio Sopportato all'interno Di Binance Una volta che voi Andate ad acquistare Per esempio Appunto bitcoin Vi ritrovate il saldo In bitcoin Appunto Prestato E per chiudere Questo prestito Dovete andare All'interno del wallet Ok E all'interno del margin Order In percentuale Da qua riuscirete a capire Quanto profitto E perito Stiate realizzando In quel determinato Asset E eventualmente Riuscirete a chiudere Perfetto Avendo visto Quello che è il wallet margin Direi ora di concentrarci Su quello che è il wallet earn Il wallet earn È il wallet Diciamo Di Binance Che permette di guadagnare Interessi È il cosiddetto staking Quindi se noi abbiamo Delle criptovalute All'interno del nostro Wallet spot Possiamo andarle a mettere A rendita All'interno del wallet Staking Abbiamo Due possibilità di staking Quindi Lo staking flessibile E lo staking fisso Lo staking fisso Tendenzialmente Da un APR Questo viene chiamato APR Ovvero una percentuale Di rendita Che quella di criptovaluta Ci andrà a dare Se noi l'andremo A tenere in staking Questo APR Tendenzialmente È più alto Se andiamo ad effettuare Un locked staking Ovvero uno staking fisso Quando andiamo ad effettuare Uno staking fisso È come se noi Andessimo a fare Un'obbligazione Per un periodo di tempo Obbligazione Che ci Obbliga A mantenere Quella criptovaluta Per un determinato Periodo di tempo Quindi se per esempio Facciamo un esempio Io ho questi USDT Volessi andarle a mettere In staking Questo è il simple earn Quindi il simple earn Vi permette di levare Le criptovalute Quando volete Quindi se avete Le criptovalute Nello spot Io vi consiglio Di mettere la rendita Nel wallet Appunto flessibile Il wallet flessibile Vedete Vi fa guadagnare Degli interessi Chiaramente ragazzi Questi interessi Non sono altissimi Però sono comunque buoni Ma vi permette Di levare Il vostro saldo Quando volete Quindi Volete levarli Dalla sezione Ebbene Lo potete andare A fare subito Se invece Andate a bloccare Con il fixed Ok quindi Con lo staking Fisso Dovete rimanere Ai vincoli Che avete dato Quando avete Firmato Il contratto Di conseguenza Se andrete A levare Le criptovalute Non andrete A guadagnare Gli interessi Che vi eravate Prefissati Di ottenere Prima Dello staking Da qua In pratica Voi cercate Le monete Quindi per esempio Vi ho fatto vedere Prima che io Ho un saldo In ordi Che è questa Criptovaluta Qua Per esempio Ordi Da uno staking Flessibile Dello 0,03% Niente Ok per questo motivo Non la metti Staking Però se volessi Andarla a mettere In staking Potrei andare A guadagnare Lo 0,03% Di interesse Sui miei Ordinals Annualmente Cliccando Semplicemente Sul pulsante Iscriviti Chiaro è che Se ci sono Questi APR Non ha senso Ma ci sono Degli APR Alti Per esempio Non lo so Possiamo vedere Io Vi faccio vedere Questa cosa Io nel mio portafoglio In staking Attualmente Ho Polkadot Ok Vi faccio vedere Per esempio Il mio portafoglio Ragazzi Attualmente Io ho solo Una criptovaluta In staking Che è Polkadot Ok Circa Circa 5.000 euro I miei Polkadot Mi danno un interesse Annuale Se non sbaglio Vedete Ce l'ho sul bloccato Quindi non sul flessibile Ma sul bloccato Del 13,6% Quindi ho bloccato Questi Polkadot Vedete Per 90 giorni O 120 giorni La sono andata a fare Ancora a dicembre Del 2023 E vedete Alla termine Di questi 120 giorni Io so che ricevo Questi interessi Questo per esempio È già un interesse Interessante Da andarsi a prendere Non si tratta Dallo 001 Quindi se per esempio Avete dei Polkadot Ragazzi sullo spot Io vi consiglio Di andarle a mettere A rendita Perché guadagnate Interessi Senza fare niente Li avete nello spot Perché non metterli qua E guadagnare questi interessi Ok Chiaro è che Se voi volete andare A mantenere il vostro saldo Liquido Per effettuare Delle transazioni O vi sentite sicuri A non mettere in staking Il vostro saldo Potete tranquillamente Tenerlo nel wallet spot Ma se voi confidate In Binance E decidete Di tenere il vostro saldo All'interno di Binance Perché non approfittare Dello staking Chiaramente c'è uno staking Anche un po' più aggressivo Ragazzi Quindi vi ho fatto vedere Fondamentalmente Appunto I prodotti principali I prodotti del wallet earn Che sono dei prodotti Appunto O flessibili O fisso Spero sia chiaro La distinzione Quindi ragazzi Lo staking flessibile Ci permette di levare Le nostre criptovalute Quando vogliamo Tendenzialmente Vedete la PR È più basso Mentre lo staking fisso Noi stabiliamo Un patto a priori E per Quei giorni Che stabiliamo Dobbiamo andare a tenere Le criptovalute All'interno di questa sezione Finisce lo staking E ci riprendiamo Le criptovalute Più gli interessi Come se fosse appunto Un'obbligazione Quindi Come sfruttare Wallet spot E guadagnare interessi passivi Tramite La sezione Staking Queste sono le sezioni Principali Presente all'interno di Binance Quindi Wallet spot Il wallet margin E la sezione Dello staking Andiamo ad approfondire Quelle che sono Le ultime sezioni Quindi dalla voce Altra Noi abbiamo La voce VIP institutional Che permette Se siete dei clienti Istituzionali O VIP che avete molti soldi Vi consiglio di Andare a dare un'occhiata A questa sezione Perché Avrete dei benefici Capirete come funziona Il programma dei VIP Eccetera eccetera Su launchpad Su launchpad e launchpad Troviamo invece Le nuove criptovalute Che si lanciano All'interno di Binance Ragazzi Questo è molto interessante Perché Binance Chiaramente Lista continuamente Nuove criptovalute E quando c'è un launchpad Binance vi avvisa Tendenzialmente Via mail E vi dice Ragazzi È presente un nuovo launchpad Su Binance Voi Potrete andare a vincolare Un capitale Per esempio Ragazzi Adesso Non ci sono launchpad attivi C'è stato un ultimo launchpad Che è stato questo qua Quindi Arkham Vedete Che però Attualmente è finito Quindi dovete essere veloci Ragazzi Voi come funziona Voi praticamente Andate ad inserire Un vostro saldo In BNB Ok E quando Questa cripto Verrà effettivamente Rilasciata nel mercato Voi andrete a ricevere Dei token Ne riceverete di più Quindi Realizzerete subito Un profitto di norma Quando il token Viene liftato Nella piattaforma Effettivamente Avete partecipato Al launchpad Quindi Il launchpad È una sezione Che vi permette di Avere accesso Alle nuove criptovalute Che vengono listate All'interno Della piattaforma La sezione Mining Pool Vi permette di guadagnare Interessi Sulle vostre cripto Ma è in DeFi Quindi ragazzi Eviterei di parlare Della sezione Mining Pool La carta Binance È stata bloccata Quindi Binance Aveva una Carta di debito Che potevamo utilizzare In Europa Ma attualmente È stata bloccata Consiglio La Buy BitCard Come alternativa Quindi ragazzi Non possiamo spendere Crypto al bank Ma non possiamo Prelevare criptovalute Da Binance Prestiti Ci permette di ottenere Dei prestiti Quindi fondamentalmente Come funziona Questa sezione È molto interessante Noi dobbiamo avere Per esempio Vedete Possiamo andare a prendere In prestito Bitcoin Ok Quindi per esempio Io per 30 giorni Voglio andare a prendere In prestito Bitcoin Cos'è che devo andare a fare Devo andare a mettere A margine Un collaterale Questo collaterale Mi serve Perché Perché Quando andrò A ridare il prestito Alla piattaforma Chiaramente Questo prestito Ragazzi Non è Non sono soldi Che non deteniamo Ma è un prestito Che Binance ci fa Lo dovremo andare a restituire Binance Su questo interesse Annualmente Ci va a guadagnare Degli interessi Ok Questi interessi Vengono scalati Dal collaterale Che noi andiamo a dare Quindi praticamente Non riusciamo ad ottenere Delle cripto Per esempio In questo caso Io con un margine Di 0,018 BNB Riesco ad ottenere Un valore Di 0,000 8552 Bitcoin Ma Se voi Diciamo Ne avrete di più Potrete andare a prendere A margine Più Capitale Chiaramente Il capitale A margine Voi lo andrete a conservare In spot E se realizzerete Una perdita Vi verrà scalato Dal collaterale Che aveste messo A disposizione Quindi potrebbe essere interessante Questa funzione In una fase Rialzista Non in una fase Ribassista Di mercato Fate attenzione A prendere prestito Del denaro Su Binance Perché comunque Lo dovrete restituire Se il mercato Va nella direzione opposta Rischiate di bruciarvi Il collaterale Per quanto riguarda Altre sezioni Ragazzi Questa è la sezione Dedicata agli NFT Ma gli NFT Se mi seguite da un po' Sapete che non li compro Nelle piattaforme centralizzate Questa è la sezione Dedicata ai fan token Delle squadre di calcio Ma a noi non interessa C'è poi la sezione Dedicata al web 3 Di Binance Una sezione Dedicata al BNB Come vi anticipavo prima E la sezione Dedicata alla beneficenza Quindi volete fare Beneficenza Da qua potete Andarla a fare Detto ciò Ragazzi Abbiamo visto tutto Quindi vi ho fatto vedere Tutte le sezioni Ok da qua non abbiamo nient'altro Vi ho fatto vedere anche Diciamo il wallet Da qua vi stampate Gli estratti conti Ragazzi Niente Abbiamo visto tutto Quindi questo è Binance Nel 2024 Purtroppo Non è abilitata La sezione Del Del trading A leva Sarebbe fantastico Se avessi la possibilità Di ritornare a fare Trading a leva Su Binance È tornata La sezione A margine Quindi se volete utilizzare La leva C'è questa sezione In linea di massima Binance Rimane uno dei principali Migliori exchange Crypto Presenti in Italia Nel 2024 Punti a favore Sicuramente Il fatto che è uno dei Più stabili E solidi exchange Nella sezione spot Abbiamo moltissime crypto Abbiamo una sezione Earn Che praticamente Nessun altro exchange Ci offre Ci sono dei punti A sfavore Come appunto Il fatto che non abbiamo La sezione dei derivati Che ci permette di fare Trading a leva O per esempio Non abbiamo la sezione Del copy trading Presente all'interno Di altri famosi exchange In ogni caso Questo è Binance E questo è il tutorial 2024 Ragazzi Anche per oggi Io sono arrivato alla fine Quindi fatemi sapere Nei commenti Se questo video È chiaro Se avete dei dubbi Ancora nell'utilizzo Della piattaforma Scrivetemi un commentino Qui sotto Che magari porterò Un upgrade Andandovi a Fare un video Dedicato Alla sezione Di cui avete bisogno Da Simodefa Anche per oggi è tutto È stato un piacere Noi ragazzi Ci vediamo nel prossimo Video Ciao